Nuova ordinanza per i cinque imputati calabresi originari della Locride, finiti nella rete dell'operazione denominata Fraudatores. A emetterla è stato il GIP di Reggio Calabria, Valentina Fabiani, dopo la dichiarazione di incompetenza rilasciata dal GIP di Messina. Confermata dunque la custodia cautelare in carcere per i fratelli di Grotteria, Giuseppe Cesare e Davide Tricarico, domiciliari per il Gioiosano Nicola Meduri e per Antonello Cancelli. Scarcerato, invece, Nicodemo Porporino di Grotteria. L'operazione Fraudatores scattò l'8 maggio scorso nelle province di Reggio Calabria e dell'Aquila, quando i carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, a carico di cinque soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla frode informatica, ma anche a accesso abusivo al sistema informatico, telematico e sostituzione di persona. Contestualmente la misura cautelare personale è stata data esecuzione anche ad un decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti dei conti correnti e dei depositi bancari nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine avviata nel febbraio del 2018 del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Gli esiti delle indagini permisero di comprovare l'operatività di un gruppo di cybercriminali con base nella fascia ionica reggina e attivo sull'intero territorio nazionale, specializzato nella sottrarre ingenti somme di denaro da diverse centinaia di conti correnti bancari online.